Buongiorno a tutti, buon martedì 5 marzo e adesso mancano 11 partite, 19 punti, però calma, calma sempre, piedi ben ancorati a terra, concentrati anche di notte perché abbiamo visto appena togli per un attimo il piede dall'acceleratore e si iniziano a trovare un po' di difficoltà in più, problemi, tentativi sempre di sminuire quello che si sta facendo in casa nerazzura ma che arrivano anche spesso dagli stessi tifosi dell'Inter, quanti commenti negativi come se fosse arrivata una sconfitta, insomma non è che puoi sempre fare 4 gol a partita, a parte che dopo analizziamo bene la gara ma li potevi fare benissimo anche ieri sera 4 gol, se non si fossero sprecate tutta una serie di occasioni ma anche di ripartenze che poi sono state bloccate come quel bel cost to cost di Lautaro Martinez che è arrivato quasi in area, poi fermato al limite. Prima di tutto però due cose, guardare il video pagelle dallo stadio che è un piccolo capolavoro, ormai siamo assediati da tutti voi, è la cosa più bella che anche lì stiamo costruendo a fine partita allo stadio di San Siro quindi un bel like al video pagelle e poi iscrizione al canale, prendete il link del canale, lo copiate, lo incollate, lo spammate su tutti i vostri gruppi e cercate di avvicinarci, aiutarci ad arrivare ai 50.000 K senza dimenticare il gruppo Telegram, scaricate la app Telegram nello store del vostro telefono è gratuito, è come Whatsapp, un servizio di messaggi, ma andate a cercare il gruppo Marco Barzaghi Inter e vi unite cliccando in basso a destra unisciti e così sarete sempre più connessi con tutto quello che proponiamo, facciamo in diretta, video appena escono che spesso non arrivano le notifiche per tempo, non vi perdete nulla, notizie, formazioni, la distinta della partita nel giorno di gara e chi più ne ha più ne metta, insieme al tè caldo più famoso di Youtube che sta per arrivare con una serie di commenti, dicevamo, altamente negativi, addirittura uno mi ha detto, mi ha scritto meriterebbero tutti i 5 a parte Aslani e Sanchez, poi vediamo anche Pagelle da Incubo che oggi torna un po' con più senso, però intanto ci sono gli avversari, non si possono vincere tutte le partite così senza problemi, inizia a esserci in testa il pensiero della Champions e anche l'ulteriore sconfitta della Juve è chiaro che abbia dato un po' di rilassatezza che non si dovrebbe ma ormai manca una settimana Madrid e non si può non pensare a quella partita che darebbe ancora più importanza a tutta la stagione riuscire a passare indenni al metropolitano quindi ci sta che complice alla sconfitta della Juve il vantaggio che continua ad aumentare la partita di Champions all'orizzonte non si sia proprio giocata col coltello tra i denti anche se abbiamo visto una serie di occasioni che potevano finire diversamente e alla fine mi sembra che Sommer, la mia diciamo cronaca della partita, abbia fatto una sola grande parata all'inizio un miracolo al venticinquesimo poco prima del gol di Aslani e poi nient'altro quindi difficoltà sì ma perché poi il Genoa è riuscito a riaprire la gara c'è questo, dopo ne parliamo, un episodio molto contestato di rigore dubbio per qualcuno addirittura inesistente però se l'arbitro Ayroldi alla fine con sicurezza ha indicato il dischetto poi richiamato all'onfield review conferma la sua decisione nonostante l'intervento del VAR che lo ha fatto andare a rivedere bisogna capire adesso aspetteremo anche l'audio dei dialoghi con il VAR e anche poi l'interpretazione della classe arbitrale a OpenVAR però l'Inter poteva benissimo fare i soliti quattro gol Mkhitaryan al volo per Barella che colpisce bene ma finisce fuori poi lo stesso Barella nell'azione del rigore poteva segnare destro a giro inizio secondo tempo di Lautaro Alto tiro di Mkhitaryan centrale che poteva avere un altro sempre nel secondo tempo un altro esito forse perché c'è stato quel brivido del gol di Vitinia poi giustamente annullato per un netto fuorigioco allora si tende un po' a sminuire anche la prestazione di ieri sera che non è stata forse così bella e scintillante ma poi hai avuto quella palla incredibile che Turama ha messo a Barella che ha colpito alto Carlos Augusto che ha tirato a botta sicuro è stato fermato se no sarebbe stato gol da pochi passi Arnautovic che poteva benissimo nel recupero segnare il 3-1 quindi le occasioni ci sono state e il Genoa alla fine si è visto dalle parti di Somme nell'occasione del gol e poi quel miracolo che ha fatto prima della rete poi c'è da dire anche che all'inizio si è un po' fatto fatica anche perché c'era uno strano silenzio per la protesta della Curva Nord che come per magia poi a spiegarvi anche l'atmosfera la magica connessione che c'è allo stadio entra la Curva proprio poco prima del gol di Aslani lo stadio comincia insieme alla Curva Cantare per tutti quei chilometri che ho fatto per te e l'Inter sfonda gran palla prima di Barella per Sanchez poi Sanchez inventa terzo assist consecutivo manda in porta Aslani che segna il suo primo gol con l'Inter bellissimo a sbloccare la situazione e questo vi fa capire insomma anche quel qualcosa di cui vi raccontavo di magico, di straordinario che c'è a San Siro anche ieri più di 75.000 spettatori per un lunedì sera comunque giornata poi non festiva con la gente che va a lavorare e arriva dal lavoro pubblico straordinario anche i tifosi del Genoa dobbiamo dirlo che hanno esaurito lo spazio a loro disposizione e coloratissimi e si sono fatti sentire per tutta la gara anche loro con grandi sciarpate è un altro piccolo spettacolo in una gara non forse così ricca di gioco di spunti come in altre occasioni però anche andare a sminuire la dodicesima vittoria consecutiva dell'Inter in questo 2024 straordinario e pensiamo che si fermi tutto qui perché credo che sabato questo più 15 sulla Juve a inizio marzo quando poco più di un mese fa si parlava di fuga invece dei bianconeri intanto vi fa capire che cosa si sta facendo veramente di incredibile e poi come invece basti veramente una frenata tipo quelle sette partite sette punti di due anni fa che devono rimanere come una cicatrice aperta però basta una frenata che rimetti tutto in discussione e adesso c'è il ritorno di Champions che già l'andata ti ha portato via energie uomini ma che nonostante tutto poi sei riuscito a vincere anche il recupero con l'Atalanta però lo dicevamo il Genoa è squadra forte ben messa in campo che gioca in modo speculare all'Inter che va ad aggredire alto quindi creando difficoltà con una difesa 3 messa molto bene in campo da Gilardino che è uno dei tecnici che si sta mettendo in mostra in questo campionato che era l'ultima squadra ad aver fermato Amarassi prima del capodanno l'Inter facendo venire un po' di preoccupazione si è confermata squadra tosta rognosa per qualcuno avrebbe meritato il pareggio secondo me no perché non c'è neanche paragone della mole di occasioni che ha avuto l'Inter e il Genoa che a parte il gol ha avuto quell'occasione e poi basta perché il fuorigioco di Vitigna non è un'occasione da tenere nel taccuino poi ha fatto venire sì un po' di paura ha alzato il baricentro alla fine ha messo in campo tanti giocatori offensivi però di pericoli non ne ha creati sempre chiusure molto tempestive di De Vrij che non ha mai lasciato se non all'inizio una sola occasione a Riteghi poi l'ha controllato anticipato sovrastato di testa chiuso insieme ai compagni bene quando sono entrati anche Bisse che soprattutto a Cerbi recuperato così come fondamentale essere riusciti a recuperare anche Marco Sturam e poi direi che ci eravamo giocati la figurina giusta perché quel Sanchez che abbiamo tirato fuori ieri dalla nostra raccolta ha fatto una gran partita ha dimostrato che è un trequartista ormai la palla l'assist il terzo consecutivo che dà ad Aslani è un piccolo bonbon che ha sbloccato la partita che dimostra quanto possa essere anche Sanchez utile alla causa per tutti i detrattori e io che non sono mai stato un amante del giocatore adesso proprio lo metto tra i preferiti perché ha avuto veramente un cambio anche di atteggiamento un inserimento nel gruppo che si sta rivelando prezioso e poi vabbè fa ridere anche non solo per il meme che abbiamo creato insieme gli amico i campioni sono così ormai tanto tempo fa quando diede la vittoria all'Inter in Supercoppa con il gol allo scadere del supplementare poi nella mia intervista come man of the match però è preziosissimo anche lui quindi per rispondere a tutti i detrattori della panchina della età media della squadra delle riserve tra virgolette dell'Inter perché possiamo dire che Aslani e Sanchez che hanno risolto la partita di ieri siano riserve in parte ma giocherebbero titolari forse quasi dappertutto Aslani tra l'altro vedete alla terza consecutiva da titolare ha avuto poi un calo nel finale la stanchezza anche perché senza Cialanoglu mancano un po' di alternative ma ha avuto comunque una crescita anche in queste ultime partite che vi fanno capire ma lo stesso Sanchez che non giocava mai ha avuto due volte l'occasione di scendere in campo dal primo minuto nelle ultime due settimane e potete andare a vedere la differenza di contributo che sta dando finalmente ha fatto il suo primo gol in campionato dopo i due di Champions terzo assist consecutivo e anche l'apporto comincia a cambiare adesso sulla gazzetta scrivono che adesso si sta anche valutando la possibilità di allungare il contratto la vedo questa un po' difficile perché ci dovrebbe essere anche una deroga una possibilità di allungare la rosa che al momento è di 25 giocatori se non hai giovani cresciuti nel vivaio e qui si potrebbero capire i ritorni di Carboni il cercare come raccontavamo ieri di andare a prendere Di Gregorio come secondo portiere e poi trasformarlo in primo nel tempo mi fanno capire come sia quella la strada per avere una rosa un po' più numerosa e supplire così a una stagione che se si dovesse andare avanti in tutte le competizioni avresti addirittura 72 partite tra la nuova Champions che ti dà sì 30% in più di ricavi ma molte più partite la nuova formula non ci saranno più i gruppi ma si affronteranno tutte le big per dare un po' più di pepe e seguito alla Champions ed evitare l'arrivo della Superlega che secondo sondaggi fatti commissionati sarebbe ben voluta da tanti in Europa vedremo anche qua se ci saranno sviluppi o che cosa un recupero anzi due recuperi quelli di Turam e Acerbi fondamentali in vista di Bologna ma soprattutto di Madrid e attenzione perché il Genoa è un piccolo atletico per come è messo in campo ma Morata e Griezmann non sono Retteghi e Gudmundson con tutto rispetto ma sono un upgrade quindi quei due lì non ti risparmieranno non ti faranno regali quindi bisognerà fare una prestazione ancora più attenta ancora più controllata concentrata senza concedere nulla come nella partita di andata perché se no non perdonano e rimettono tutto in discussione un gol di vantaggio è un buon vantaggio però ripensando anche a tutte le occasioni sbagliate soprattutto da Arnautovic ma anche Lautaro si poteva andare con un vantaggio maggiore e con un po' più di fiducia e tranquillità per gestire il ritorno invece sarà una vera e propria battaglia e speriamo che vada nella direzione giusta stasera intanto vediamo se la Lazio riuscirà nella sua impresa di eliminare il Bayern Monaco che credo che faccia una grande partita nonostante i dissapori interni e Tuchel che mi pare di capire non stia simpatico a nessuno che dire in più prima di passare alle pagelle da incubo parole di Inzaghi ancora sul suo futuro ha detto che lui sta bene qua che quando sarà il momento si parlerà anche di questo ulteriore rinnovo che non ci saranno problemi non ci sono problemi come vi abbiamo sempre detto lasciate stare perdere il Liverpool alla cruz e varie fake news che qualcuno si inventa per fare qualche visualizzazione cercare di di far rivivere un canale ormai diciamo sedato andiamo quindi a vedere un po' di voti di pagelle il nostro video da condividere e likeare un piccolo spettacolo all'esterno del Meazza con tantissimi amici non sono d'accordo anche con l'insufficienza che viene data a Dumfries non ha spinto non ha fatto granché però anche quell'ammunizione secondo me non ci stava proprio così come assurda quella per simulazione data dai roldi all'autaro martinez che non protesta neanche sterzando perde l'equilibrio viene ammonito altra altro punto di domanda sul rigore in tanti mi hanno chiesto se la sfioricchia o no se si può parlare anche qui di imprudenza come nel caso di Sommer a me sembra che l'unica morale di questa storia è che ci sia tantissima confusione una classe arbitrale soprattutto nelle nuove leve molto al di sotto degli standard che dovrebbe avere la serie A tantissimi errori non si capisce più niente ognuno la vede a suo modo addirittura abbiamo visto anche guardialine che alzano le bandierine non seguendo le indicazioni date a inizio stagione ma da sempre per permettere poi l'intervento del VAR distraendo anche i giocatori come nel caso del rigore in inter Atalanta l'indicazione è sempre di far finire l'azione e poi alzare eventualmente la bandierina per permettere poi l'intervento del VAR quindi anche su lì non ci vediamo molto probabilmente anche il VAR non ha fatto vedere l'immagine giusta a Iroldi in cui Frendrup tocca il pallone prima di franare su Barella però evidentemente l'interpretazione dell'arbitro va a punire questo intervento scomposto e imprudente del centrocampista del Genoa su Barella qualcuno dice che avrebbe dovuto a quel punto essere anche ammonito e quindi espulso perché aveva già rimediato un giallo tante interpretazioni però su tutte le prime pagine rigore inesistente rigore inesistente come Inter con l'aiutino sempre a cercare di sminuire un qualcosa di eccezionale che si sta facendo in casa nera azzurra nessuno in Europa una striscia aperta in un campionato di nove vittorie consecutive numeri come quelli dell'attacco della difesa di una differenza reti di più 56 veramente stellare però lasciamo ai posteri o ai rosiconi le polemiche del caso rigore che non ci stava ma andiamo avanti per la nostra strada e penso che ogni partita ci siano diversi episodi dubbi il problema che vengono sempre interpretati in modo differente senza dimenticare il rigore dato alla Fiorentina per l'uscita di Sommer che ha creato molto scalpore all'estero qui in Italia si inventano anche neologismi come lo sfioricchiamento pagelle da incubo vediamo un po' se i voti dei giornali ci tornano e sono in linea con il nostro video pagelle che dovete far crescere oggi se non l'avete già fatto e visto ieri sera partiamo dalla gazzetta il migliore in campo Alexis Sanchez siamo d'accordo darei qualcosina in più a Inzaghi 6,5 mi sembra riduttivo perché ha gestito al meglio tutto e anche i recuperi degli infortunati il peggiore in campo addirittura Dunfries addormentato non ne combina la giusta mi sembra fin troppo severo Sommer 6,5 6 Pavar gli avrei dato qualcosa in più perché fa comunque una gran chiusura su Gudmundson nel primo tempo De Vrij 6,5 Basso Carlos Augusto 6,5 Kei 7 Barella 6,5 Aslani 6,5 Mkhitaryan 6 Di Marco 6,5 Lautaro 6 Darmian 6,5 Turam 6 Acerbi leggiamo Sanchez il migliore in punta di piedi perché ha qualità superiori che gli consentono di ballare mentre gli altri camminano trasforma un corridoio in autostrada per Aslani sul 1-0 poi si prende il pallone del rigore per il primo gol in campionato qualcuno mi ha scritto non è il primo gol di Sanchez in campionato è il primo Corriere della Sera vediamo se siamo sempre in linea o c'è qualche voto che non torna oggi di solito l'amico Paolo Tomaselli è uno dei migliori 6 Sommer 6 Pavar 6 e mezzo De Vrij 6 Carlos Augusto 5 Dunfri 6 Barella mi sembra un po' basso per la prestazione anche se è vero come scrive che ha avuto due grandi occasioni non le ha sfruttate 6 e mezzo Zaslani 7 Mkhitaryan 6 Di Marco 6 Lautaro Martino 7 Sanchez 6 poi tutti gli altri anche 6 a Inzaghi mi sembra un po' poco 12 vittorie su 12 il scudetto della seconda stella già in tasca però nel secondo tempo l'Inter soffre più del dovuto ha fatto i cambi giusti ma non credo che sia da imputare a un Inzaghi che festeggia le 300 panchine andando a più 15 6 mi sembra riduttivo perché ha gestito al meglio la partita Corriere dello Sport qui secondo me già inizia oltre alla moviola a mancare qualche cosa Barella incide Turam caldo Retteghi si sbatte no si batte però comunque non cambia il senso 6 e mezzo Inzaghi 6 e mezzo Sommer 5 e mezzo Pavar non sono d'accordo 6 Bissek De Vrij 6 De Vrij pochissimo per la partita che ha fatto e secondo me è stato con Sanchez il migliore in campo non so ditemi anche voi 6 e mezzo Carlos Augusto 5 e mezzo Dufres ci può stare 6 Darmiani 6 e mezzo Barella 6 e mezzo Aslani Mkhitaryan 6 e mezzo ma io Aslani comunque un 7 glielo do perché comunque fa una gran partita il suo primo gol tra l'altro prima del gol del Genoa c'è un placcaggio di Gunmanson su Barella che secondo me era da sanzionare modello Arnautovic in Inter Verona Di Marco 6 a Cerbi 6 Sanchez 7 Turam 6 e mezzo che è entrato e quanto è importante essere riusciti a recuperare Turam finiamo con tutto sport e vediamo qua come interpretano la partita Mkhitaryan dispensa idee Retteghi Gran Combattente Sommer 6 e mezzo Pavard 6 De Vrij 6 e mezzo che avvia anche l'azione dell'1-0 Carlos Augusto 6 Dumfries 5 e mezzo 6 Darmian 6 e mezzo Barella 7 Aslani ci sta 7 Mkhitaryan anche preziosissimo Di Marco e Acerbi 6 Sanchez 7 Turam 6 mezzo punto ci sta 5 e mezzo a Lautaro Martinez anche no perché secondo me ha fatto una bella partita e soprattutto ha lasciato anche il vigore a Sanchez Svaria su tutto il fondo d'attacco lanciando la Titano in zona gol una notizia per lui che continua a non fare gol al Genoa 6 e mezzo inzaghi non capisco perché dicono perché Gudmundson sulla tre quarti non lo pigliano mai i suoi giocatori a colpa di Inzaghi un po' di vostri messaggi al video pagelle forza adesso bisogna arrivare almeno a 10.000 quindi condividetelo e mettete dei bei like Anthony 12 like meglio così Marco perché quando trovi questi avversari che torni con i piedi per terra e continui a lavorare su frattesi dicono nulla di che non si è sentito in condizione probabilmente ha sentito qualche fastidio vedremo se farà degli accertamenti tra oggi e domani o se è solo un qualcosa già di superato come speriamo Luca De Feo un po' di sofferenza e tensione mantengono la squadra sul pezzo evitando cari di concentrazione non possiamo pretendere vincere sempre con 4 gol di scarto sul velluto altri abbonati che scrivono Tony più 15 senza l'asterisco i tuoi piedi per terra lottato fino all'ultimo secondo dimostrazione di una maturità ormai acquisita Inter da grandi numeri dove riesce a vincere anche in serate non al massimo Paso Doble Orli rigore regalato grande la tua disponibilità Marco a breve a farle pagare alle tue spalle troveremo tutta la curva non è tutto tutto lo stadio grazie Orli Cozval difficile dire calma dopo che siamo a più 15 ora sabato facciamo riposare Lautaro De Vraimi Guitare Ambarella devono rifiattare mettere benzina le gambe per lo sprint finale ma soprattutto per Madrid per Madrid altro che sprint finale a Madrid se riesci a qualificarti ancora per i quarti poi iniziamo a divertirci ancora di più mancava un po' la sofferenza dei vecchi tempi dice Soldatino questa partita Rafa deve farci capire solo una cosa non importa se giochi contro la seconda la sesta o l'ultima in classifica tutti giocheranno per vincere contro la prima della classe per essere anche ricordati per quelli che hanno fermato la striscia record 23 partite vinte Lucio più 15 sulla seconda più 56 differenza retti Aslani che segna grandissima inter mettiamoci anche Sanchez che segna grazie Alessandro per i complimenti Fernando dal Canada lo sconosciuto un po' di sofferenza del secondo tempo dovuto alla stanchezza anche a un po' di sufficienza nel pensare già chiusa la partita sul rigore ho sentito lamentarsi un sacco di rosiconi per me era netto perché il difensore entrava a langa su barelle poco importa si aveva già tirato vedere l'Inter non dominare fa strano però non mi è sembrata in difficoltà così come volete dipingere anche alcuni di voi questo ci fa capire quanto conta la testa dei giocatori Massimiliano Romani è amico sempre più trequartista anche oggi grande prestazione del nino da rifinitore bel gesto del Toro a lasciargli il rigore calma Marco Seroldi Rossella da brividi quando è entrata la curva li abbiamo spinti verso il gol complimenti al Genoa non sono stata tranquilla per niente stasera un po' di ansia Marilena Genoa ottima squadra che ci ha messo ancora in difficoltà Matteo Merli partita tra le più complicate degli ultimi tempi complimenti ai ragazzi per aver vinto con sofferenza e sacrificio complimenti ad Asnani per il suo primo gol e complimenti a Sanchez per la volontà e l'entusiasmo che sta mettendo Joseph Mega partita difficilissima stanchezza qualche polemica per gli episodi arbitrali fondamentale portare a casa i tre punti Ermanno probabilmente la testa era altrove comunque tre punti portati a casa a meno 15 laggiù fa molto freddo adesso obiettivo Madrid un po' di rassegna stampa adesso con i titoli principali dopo aver già visto le pagelle c'è solo l'Inter in copertina la gazzetta batte il Genoa e vede lo scudetto Aslani gol e Sanchez su rigore ma non c'era Inzaghi ritrova Turam ora siamo la Red Bull Aslani Sanchez anche il Genoa K.O. la capolista non si ferma più i Nerazzurri vanno su 2-0 nella ripresa soffrono il Rosso-Blu una vittoria di fila in campionato nuovo a lungo sulla Juve la Moviola il rigore non c'è Giallo Lautaro senza senso Zangrillo lascia dopo San Siro dopo il calcio di rigore Pagelle viste inzaghi da corsa grazie al lavoro siamo diventati la Red Bull ad agosto non eravamo così in tre giorni abbiamo messo 15 punti tra noi Juve e Milan non dobbiamo mollare protesta Girardino bisogna ascoltare il VAR il Nigno è tornato maraviglia dopo gli assist ecco pure il gol Corriere dello Sport titolo discesa libera Inzaghi batte anche il Genoa 2-1 rigore inesistente l'Inter vola più 15 un'astronave diretta su Marte sblocca a Slane visto dal dischetto filmato da Sanchez dopo una grave svista di Airoldi inutile il gol di Vasquez Juve staccata e Gravina convoca gli arbitri più 15 ma con l'aiutino il titolo poco rispettoso gol di Aslani poi un rigore regalato ai nerazzurri realizzato da Sanchez stronca il Genoa a Vazquez assenio